Buongiorno e ben ritrovati qui su Le Fonti TV, siamo in diretta live streaming, oggi lunedì 10 maggio per gli appassionati di sport ieri sera, la Juventus è stata schiantata dal Milan 3-0 e quindi forse non entra in Champions League, adesso vediamo, l'Inter ha già vinto lo scudetto, lo dico per i tifosi dell'Inter come me, anzi invece ho visto un strepitoso tweet ieri sera di Enrico Letta, segretario del PD che ha scritto, dopo la vittoria del Milan su Leventus, ma vieni, questo era il tweet, ma vieni e infatti è venuto Gualtieri, ricorderete Gualtieri ministro dell'economia, il quale ha atteso fino a ieri di capire se il PD lo candidasse o meno a sindaco di Roma, dopodiché sembrava che sindaco di Roma dovesse essere Zingaretti e quindi Gualtieri si era fatto da parte, aspettando che fosse definitivo il no dei Cinque Stelle alla ricandidatura di Virginia Raggi, pare che Conte, Giuseppe Impector, il leader dei devastati Cinque Stelle, avesse raggiunto questa intesa con Enrico Letta, segretario del PD, per cui niente raggi, Zingaretti candidato a Roma come sindaco, in regione grazie a questo accordo Movimento Cinque Stelle e PD, un Cinque Stelle, un pentastellato, calenda corsa solitaria contro tutti e dopodiché cosa succede? Che Conte, Giuseppe, spariglia e dice ma noi appoggiamo la Raggi, quindi Zingaretti dice quindi non mi candido e Gualtieri dice ma non mi candido io, sono contento che Letta sia soddisfatto del risultato sul campo del Milan, non riesco a capire quanto possa essere soddisfatto del bicolo cieco in cui mi pare che il PD si è infilato a tanti livelli, ma queste sono questioni del PD, di Letta e del centrosinistra, lasciamo stare i giochini della politica, parliamo della vita e delle cose serie, ospite con noi oggi è Marco Cappato, Cappato buongiorno. Buongiorno Antonello, buongiorno a chi ci guarda e ci ascolta e ci visualizza come si mi raccomando che qua siamo visualizzati, non siamo visti, allora intanto ciao Marco buongiorno, contento di avervi ospite per darti la possibilità di promuovere le tue iniziative se qualcuno non dovesse conoscere Marco Cappato rimando al suo profilo Wikipedia sperando che sia corretto, rimando al sito di marcocappato.it, rimando al sito di Luca Coscioni, per chi si vuole informare ovviamente ci sono grazie a Dio tanti strumenti per farlo, lascio stare i tuoi tweet, ovviamente Cappato ha anche dei profili social che potete agevolmente rintrecciare, lasciamo stare i tuoi ultimi tweet di cui parliamo dove ti occupi di Europa soprattutto e poi ci spieghi perché, io partirei dalle ultime vicende giudiziarie che ti hanno coinvolto, anzi sarebbe carino che tu spiegassi a chi ci sta guardando quanti processi hai subito essendo tu un attivista politico non violento e quindi uno si dice, ma perché se un attivista politico non violento è finito più volte a processo? Adesso ce lo spiega lui, prego Marco. In Italia due processi, ho subito un processo in Gran Bretagna molti anni fa per una disobbedenza civile sulla cannabis contro il proibizionismo sulle droghe, in Italia invece ho subito due processi con l'accusa per un reato del 1930 che si chiama istigazione aiuto al suicidio che in Italia è punito da un minimo di 5 a un massimo di 12 anni di carcere, il problema è che nel 1930 non c'erano i malati terminali e quell'articolo non era certo studiato per governare il tema della malattia terminale, ma era semmai concepito ai tempi del fascismo per sottolineare la superiorità dello Stato sulla vita dei singoli cittadini. Io sono stato processato per aver aiutato ad andare in Svizzera a ottenere l'eutanasia, il suicidio assistito, una morte senza soffrire a Fabiano Antoniani, DJ Fabo, per un primo processo dove la Corte Costituzionale stessa poi intervenne per dire che in quelle condizioni, in condizioni di sofferenza, malattia reversibile e dipendenza da un trattamento sanitario come era DJ Fabo, aveva diritto ad essere aiutato a poter morire. Il secondo processo per l'aiuto a morire a Davide Trentini e insieme a Mina Welby, la soluzione era meno scontata perché Trentini non era attaccato a una macchina, ma in ogni caso l'interpretazione del giudice della Corte d'Appello di Genova sul fatto che anche Trentini, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale, avesse diritto ad essere aiutato a morire, ha confermato la soluzione in primo grado, dove il PM aveva chiesto tre anni di carcere e invece poi la decisione finale anche della giuria, della giuria popolare togata è stata quella della soluzione. Ci racconti un po' di te, dove nasce la tua passione direi più che politica civile? Perché io prima di darti la parola ho fatto un riassuntino anche per far vedere che siamo in diretta, perché in rete non si capisce mai quanto è registrato, quanto è on demand, siamo in diretta e quindi ho dato un flash sui risultati del campionato e sulle vicende intorno al sindaco di Roma, non si voterà solo a Roma ovviamente, però è il sindaco della capitale, intorno al sindaco della capitale come ben sa Cappato, è una battaglia di grande significato politico. Poi se vuoi puoi commentare sulle vicende di politica. Io parto dalla fine e mi collego un po' tra quello che sta succedendo e quello che sto facendo io, perché l'impressione sempre più viva è che i grandi problemi del nostro tempo, la crisi della pandemia ma anche i cambiamenti climatici, le questioni dei diritti civili, della libertà alla fine della vita, sulla quale presto partiremo con la raccolta firme su un referendum per la legalizzazione dell'eutanasia, ne parleremo magari tra poco, la politica dei partiti, la politica elettorale essendo molto concentrata su il brevissimo periodo ed essendo di dimensione fondamentalmente nazionale non riesce a dare delle risposte di governo a questi problemi ed è molto concentrata o totalmente assorbita negli scontri di potere e di fattura. da qualche anno ho deciso, dopo essere stato parlamentare europeo, consigliere comunale a Milano di continuare a fare politica ma in modo diverso, non essendo candidato o eletto da qualche parte ma attraverso gli strumenti della non violenza, della disobbedenza civile e dell'iniziativa popolare con l'associazione Luca Coscioni, con Humans e in questo ritengo di avere proseguito con quella che è stata la ragione fondamentale che mi ha portato ormai oltre un quarto di secolo fa ad avvicinarmi ai radicali e a Marco Pannella che conobbi nel 92, sono di famiglia radicale, erano iscritti mio padre e mia madre, si era candidato mio fratello all'elezione comunale a Monza quindi ho sempre respirato quell'aria, quella cultura libertaria, laica a casa e poi a partire dalla battaglia antiproibizionista ho deciso di impegnarmi in prima persona e da lì poi è cominciata una storia che è diventata anche di una vera e propria occupazione a tempo pieno prima come rappresentante all'ONU del partito radicale, la campagna contro la pena di morte o per la creazione del Tribunale Penale Internazionale contro i genocidi e i crimini di guerra e poi appunto l'elezione al Parlamento Europeo e tutto il resto. Luca Coscioni era una persona malata di sclerosi laterale amiotrofica che parlava comunicando, parlando con gli occhi attraverso un sintetizzatore vocale di un computer ed è stata la persona grazie alla quale non solo io ma tutto il mondo radicale ha imbracciato la battaglia per la libertà di ricerca scientifica, l'importanza della scienza per la qualità della vita delle persone ed è il tema sul quale ancora sono particolarmente impegnati. Sì, tra l'altro un volume scritto da Cappato si intitola per l'appunto Credere, disobbedire, non credere, obbedire e combattere, che era un motto della buonanima, Mussoliniano, credere, obbedire e combattere, credere, disobbedire e combattere. Credere, lo avete sentito, cosa crede? Crede nel valore della vita, della scienza. Non so quanto ti ha coinvolto il dibattito sul Covid, sull'origine del Covid, su come abbiamo combattuto la pandemia, su quello che sta succedendo per i vaccini, che non so se tu hai già fatto oppure no, perché ormai non capisco più nulla. Io mi sono vaccinato sabato, lo dico, non frega nulla a nessuno, ma finalmente avendo compiuto 60 anni a dicembre nella Regione Lazio è arrivato il mio turno, mi sono messo in coda in un hub allestito presso un centro commerciale alle porte della Capitale, sabato mattina mi hanno fatto la prima dose di vaccino. Mi sono prenotato stamattina perché ai cinquantenne, anche se non ancora compiuti, ma tutti i dati dal 71 sono stati aperte le registrazioni, credo ieri sera, quindi stamattina mi sono prenotato per i primi di giugno. Sulla questione coronavirus, sì, con l'Associazione Coscioni ci siamo impegnati molto soprattutto sul tema dei dati, delle informazioni. Pensate che ancora adesso non vengono messe a disposizione della comunità scientifica i dati, non le somme aggregate che si danno al telegiornale, ma i dati disaggregati, cioè per ciascun singolo paziente, per ciascuna singola struttura sanitaria. Questi dati non sono messi a disposizione della comunità scientifica e ancora non si fanno quelle rilevazioni a campione che consentirebbero di sapere davvero quanti sono i contagiati, perché i numeri che danno al telegiornale non sono quelli dei contagiati, sono quelli di chi si è fatto il tampone e quindi risulta come contagiato, ma per avere una stima di quanti sono davvero anche gli asintomatici che nemmeno sanno di esserlo, bisognerebbe fare un test a campione come si fa sui sondaggi elettorali. La nostra battaglia come associazione Luca Coscioni è stata soprattutto per la pubblicità dei dati, abbiamo addirittura messo in piedi un sito internet che si chiama covidleaks.it dove in forma anonima il personale sanitario può inviarci i dati e con questo abbiamo dimostrato come un sacco di informazioni utili non sono messe a disposizione della comunità scientifica. bravissimi perché un tasto su cui ho battuto non tanto qui perché questo ciclo di conversazioni è ripreso il primo marzo, l'avevamo iniziato a febbraio l'anno scorso, poi c'eravamo tutti schiantati sul lockdown totale e sul blocco di ogni attività, di ogni spostamento, ma ai microfoni della radio alla quale collaboro quotidianamente a un certo punto avevo detto che secondo me bisognava o sospendere la diffusione dei dati così come veniva fatta con quella inutile conferenza stampa quotidiana in cui si davano delle cifre di cui non si conosceva l'origine, non si capiva come venivano raccolti. Ovviamente io lo dicevo un po' come Marco Cappato se posso paragonarmi con una voce nel deserto perché ovviamente invece tv, talk show, giornali non hanno fatto altro che pubblicare tonnellate di dati, il numero dei contagiati e uno diceva conta bene, cioè hanno fatto il tampone, cioè hanno i sintomi e i dasintomatici ma sono sintomi gravi, sono sintomi che hanno richiesto il ricovero, li hanno ricoverati normalmente, li hanno messi in terapia intensiva, sono uomini, sono donne di quanti anni, al nord, al sud, zero. L'importante era creare una grandissima cassa di risonanza in cui l'eco arrivava di nuovo e alla fine non si capiva quasi niente se non che alla fine ci siamo ritrovati anche su una vicenda così che riguarda la vita e la salute delle persone spaccati in fazioni. I rigoristi, chiudiamo tutto, gli aperturisti, i no vax, i si vax, certe volte sono davvero caro Marco sconfortato, ma transeat, parlaci di due cose pratiche, allora hai detto raccolta di firme che organizzerete o state organizzando, state per partire per l'eutanasia, cioè a favore del diritto di un singolo individuo di? Di poter scegliere di essere aiutato a morire senza soffrire, se ovviamente in determinate condizioni, se è in una condizione di una patologia irreversibile e di una sofferenza insopportabile. Noi abbiamo depositato come associazione Luca Coscioni e altri in Parlamento otto anni fa una proposta di legge di iniziativa popolare, pensa che la prima l'ha depositata 34 anni fa Loris Fortuna, il padre della legge sul divorzio. Il Parlamento italiano non ha mai affrontato la questione, il Parlamento spagnolo in sette mesi, adesso durante la pandemia, ha discusso e ha approvato la legalizzazione dell'eutanasia. Tra l'altro i sondaggi dicono, non i miei, ma di tutte le case di sondaggi che dal 70 al 90% dei cittadini italiani sono favorevoli con il fatto che in determinate condizioni una persona possa scegliere di essere aiutata a morire, anche perché una persona che non lo vuole non lo sceglie, non è ovviamente obbligatorio né per il paziente né per il medico. Il Parlamento italiano continua a non rispondere neanche a due richiami della Corte Costituzionale che in occasione del mio processo ha chiesto al Parlamento di intervenire. Quindi a questo punto noi pensiamo che il modo migliore di affrontare il tema sia di lasciare che i cittadini stessi scelgano direttamente, quindi abbiamo depositato in Corte di Cassazione un quesito referendario per la legalizzazione dell'eutanasia attraverso la depenalizzazione del reato cosiddetto di omicidio del consenziente e la raccolta delle firme partirà il primo luglio e durerà come prevede la Costituzione tre mesi, luglio, agosto, settembre. Qui ci sono due cose tecniche molto importanti, questa volta possono autenticare le firme anche gli avvocati, quindi gli avvocati in ascolto ci possono contattare o si possono segnalare sul sito referendum.eutanasialegale.it e l'altra cosa significativa invece è una richiesta che facciamo al Ministro Colau perché ancora non si possono sottoscrivere le proposte di referendum attraverso la firma digitale e quindi deve essere tutto fatto con cartaceo, ma insomma noi non ci spaventiamo di fronte a questo ostacolo e abbiamo iniziato la creazione della rete per la raccolta delle firme, ci sono 2500 volontari che si sono finora registrati sempre sul sito referendum.eutanasialegale.it e andiamo avanti per poter realizzare questa impresa che evidentemente il Parlamento italiano e i partiti hanno paura di volere affrontare. Del resto nel nostro paese tu ricordavi giustamente l'oris fortuna, la legge sul divorzio che fu approvata dal Parlamento, poi fu oggetto di un referendum promosso dalla democrazia cristiana, su cui il Partito Comunista era molto tiepido, tu sei nato nel 71, avevo già 14 anni e ho dei vaghi ricordi, all'epoca ero uno sfegatato simpatizzante della Federazione Giovanile Comunista suggestionato dal carisma di Enrico Berlinguer, quindi seguivo il debate e mi ricordo come i radicali di Marco Pannella cercassero di scuotere il pachiderma rosso del Partito Comunista ad abbracciare la battaglia referendaria, il Partito Comunista nicchiava come spesso gli capita perché l'elettorato cattolico, il Vaticano, le relazioni, la Chiesa, dopodiché come spesso succede, la società era più avanti rispetto a quello che immaginava la democrazia cristiana di Amintore Fanfani, che voleva l'abrogazione della legge sul divorzio dicendo nei comizi delle cose, donne, i vostri mariti divorzeranno per scappare con la cameriera, giuro il livello del dibattito era questo da parte della democrazia cristiana e alla fine comunque poi gli italiani sono andati a votare e si sono schierati contro l'abrogazione della legge sul divorzio, stessa cosa per quanto riguarda la legge sull'aborto, adesso avete sentito sull'eutanasia, in Europa che state combinando Cappato? Allora, è iniziata ieri, questo è importante, la conferenza per il futuro dell'Europa, cioè una riflessione, un dibattito che dovrebbe riguardare le riforme dell'Unione Europea, qual è il problema? Il problema è che la pandemia ha dimostrato ancora una volta di più che l'Europa è necessaria, ma anche i dibattiti di giornata sugli sbarchi dei migranti o sui cambiamenti climatici, il problema è che l'Europa è anche scarsamente democratica e aperta alla partecipazione dei cittadini. Ho fondato insieme a altri un movimento paneuropeo di iniziativa popolare, cioè un movimento al quale possono partecipare cittadini di tutta Europa che invece di fare politica attraverso la candidatura alle elezioni cerca di cambiare le cose attraverso gli strumenti di partecipazione democratica. Per esempio quasi nessuno sa, abbiamo pubblicato ieri un sondaggio su questo, 3 persone su 100 sanno, quindi nessuno, quale sia l'unico strumento di partecipazione democratica che l'Unione Europea prevede, che si chiama iniziativa dei cittadini europei, con la quale un milione di persone da tutta Europa possono chiedere all'Unione Europea di prendere l'iniziativa su un tema o su un altro. Per esempio noi stiamo raccogliendo le firme su una proposta europea per diminuire le tasse sul lavoro spostando le tasse sulle emissioni di CO2, quindi la cosiddetta conversione ecologica del fisco, meno tasse sul lavoro più tasse su chi inquina. Questa proposta si firma sul sito stopglobalwarming.eu ed è un esempio di come poter attivare gli strumenti della partecipazione europea per cambiare le cose, non a favore o contro l'Europa, ma usare l'Europa per promuovere le libertà e i diritti. Senti, in Italia c'è in discussione, visto che parliamo di diritti civili, il controverso, vituperato disegno di legge Zanna, il quale è presentato dal suo firmatario e dei suoi sostenitori come un disegno di legge che va a sanzionare l'omofobia e la transofobia, da coloro che sono critici se non altro sul piano del metodo, al di là del merito e cioè del fatto che si sono create delle condizioni per cui il dibattito sembra un po' prendere o lasciare. Questo è il disegno di legge, se vi piace così, se non vi piace e ad alcuni esponenti, uomini e donne anche di sinistra il disegno di legge, anche mondo femminista, mondo femminile, credo parte dei radicali. Ho visto una dichiarazione del segretario dei radicali che ha detto che non sono convinto che la repressione penale sia la strada migliore perché c'è un problema anche culturale, ma insomma la richiesta sarebbe quella di fare di un tema così rilevante un grande momento di dibattito civile, cioè facciamo del Parlamento dove il provvedimento adesso è approdato dalla Commissione del Senato, una casa di vetro dove tutti possono legittimamente dire perché sono favorevoli o contrari e all'iniziativa oppure se il testo va bene in una parte e non va bene in un'altra, può essere rivisto, non lo so, non so cosa pensi tu, mi piacerebbe da un punto di vista meramente formale, metodologico, democratico che non mi si venisse a dire prendere o lasciare, prendo o lascio, ma come si dice vorrei anche avere la possibilità di discuterne. Marco? Certo, ma in Parlamento sul metodo sono assolutamente d'accordo, si deve poter discutere, lì credo che ci sia una questione un po' tecnica, nel senso un conto è presentare emendamenti che poi il testo dovrebbe semplicemente ritornare nella Camera che l'ha già approvato, un altro conto invece è voler presentare un nuovo testo che farebbe ripartire l'iter dall'inizio, però se attraverso emendamenti si possono trovare soluzioni migliorative non bisogna mai impedire al Parlamento di discutere. Io però penso che sia fondamentalmente un buon testo perché i reati collegati all'istigazione all'odio, che quindi sono l'istigazione all'odio razziale, c'è una estensione a altri motivi che possono riguardare l'odio e quindi l'incitazione alla violenza. La parte più controversa forse è quella che riguarda le scuole, però io anche lì penso che si può trovare il modo di fare informazione e formazione su questi temi anche ai ragazzi, anzi se ci fosse un po' di capacità di fare formazione contro le discriminazioni, questo abbia un effetto sociale positivo. Personalmente ritengo che il modo migliore per superare le discriminazioni sia quello, più che le sanzioni penali, sia quello di garantire pari diritti, per esempio di fronte all'istituto del matrimonio e quindi è più quello l'obiettivo che mi interessa. Però francamente le barricate contro questo disegno di legge mi sembrano fuori misura. Solo una domanda e poi passiamo ad altro. Tu dici che giustamente si è creato un clima da barricate da una parte e dall'altra con delle singolarità. La settimana scorsa ho parlato con Marina Terragni, giornalista, scrittrice, la quale diceva che nell'82 con Franco Corleone, radicale, abbiamo fatto la battaglia per la legge sui transessuali, non posso essere ogni volta costretta a ricordare il mio curriculum a difesa dei diritti civili di chi che sia, ma dentro questo disegno di legge ci sono dei passaggi a proposito della cosiddetta identità di genere che lasciano perplessi, che possono aprire le porte, perché quello che si teme è che attraverso il meccanismo del se sei contrario al disegno di legge Zan sei omofobo, alla fine si impedisca di passare ad affrontare alcuni passaggi di quello stesso testo su cui invece le sensibilità sono diverse. Capisco il rischio, mi sembra che nel testo ci sia un chiaro riferimento alla libertà di espressione, il punto nel merito contestato da Terragni invece è un punto sul quale io sono d'accordo, ma la scienza ci spiega di come la sessualità di una persona sia qualcosa di molto complesso che non riguarda semplicemente il sesso biologico, ma riguarda anche come una persona si percepisce e rispettare questo non credo che sia una violazione dei diritti delle donne, il fatto che una donna si possa sentire prevalentemente nella propria percezione uomo o viceversa, è un fatto che va semplicemente rispettato, non è che rispettarlo va contro le battaglie femministe, la penso così e mi sembra che da questo punto di vista i pericoli che si agitano non corrispondano alla realtà della legge. Ho parlato della tornata amministrativa a Roma, ma in realtà c'è una tornata amministrativa anche che riguarda la tua città di nascita, Milano, dove a un certo punto se non ricordo male tu eri anche candidato a sindaco, non so se accarezzi ancora l'idea di farlo o se poi alla fine la gestione di Beppe Sala non ti è risultata sgradita o comunque adesso sei impegnato su altri fronti e non ci pensi minimamente a poter correre per amministrare la tua città. Prego. Ti ringrazio, sono impegnato su altri fronti, in particolare abbiamo da portare a compimento questa impresa referendaria sulla legalizzazione dell'eutanasia e sui temi dell'Europa, della ricerca scientifica della quale abbiamo parlato prima e come dicevo ritengo che oggi le elezioni siano uno strumento sempre meno adeguato per affrontare i grandi problemi di un paese ma anche di una città. In realtà io mi ero candidato proprio per dare seguito a un progetto referendario che era stato votato dalla stragrande maggioranza dei cittadini milanesi dieci anni fa e che riguardava tra le altre cose anche la riapertura dei cosiddetti navigli, dell'antico tracciato dei navigli milanesi come in realtà non un ritorno al passato ma un'idea di città del futuro, cioè una città che ridà spazio all'acqua, che toglie spazio alle strade, alle automobili per dare spazio alla vivibilità, alle piste ciclabili, ai pedoni, cioè una città che punta sulla qualità della vita e del verde urbano. Tutto questo realizzato con un appuntamento referendario. Su questo ci sono state delle prese di posizione e degli impegni che però non si sono ancora tradotti in realtà, neanche da parte del sindaco Sala che pure ha scritto un libro ed è sicuramente favorevole al progetto, quindi personalmente mi limito a questo punto a continuare a fare pressione da fuori perché si vada nella direzione di questo grande progetto di sostenibilità ecologica e anche sociale per la città di Milano ma non lo faccio attraverso una candidatura. Allora, per tutti coloro che volessero seguire le battaglie civili, l'impegno civile di Marco Cappato, l'avete sentito, dal primo luglio raccolta di firme per l'eutanasia, Stop Global Warming, battaglia europea, potete cercare i link, potete farlo attraverso il sito di Marco Cappato, attraverso il sito di Luca Coscioni, mi raccomando se è possibile trovate 5 minuti per informarvi perché altrimenti finirete oggetto o staggi di un'informazione che è sempre più veloce, sempre più sincopata, sempre più sintetica perché la gente non ha tempo, la gente non ha voglia di ascoltare, dopo 90 secondi crolla la soglia di attenzione, ottimo, così continueremo a navigare nella nebbia quando sarebbe opportuno invece arricchire la propria conoscenza, magari non siete d'accordo con Cappato, siete contro l'eutanasia, ascoltate quello che ha da dire, magari non cambierete idea o magari sì, comunque non farete in modo di essere dei contenitori in cui qualcun altro vi inserisce dei pregiudizi, fatevelo, lo dico anche e chiudo salutando Marco Cappato e ringraziandolo nei confronti di quella signora libraia di Roma che ha detto che nella sua libreria non verrà venduto il libro di Giorgia Meloni, per carità di Dio, la libreria è la sua, faccia quello che le pare, io però siccome poi magari fra i sostenitori della signora che censura il libro della Meloni ci sono quelli che hanno gridato alla censura per Fedez, vorrei che tutti facessimo pace con il cervello e ragionassimo sul fatto che una libreria dovrebbe dare, a meno che un libro non inneggi, che ne so, all'olocausto, sterminiamogli, allora non lo vendo, dice ma è un'opinione, ho capito, ma è un'opinione che incarna un genocidio, scusate, grazie anche no, ma è un libro che racconta una candidata che ti può piacere o non piacere, diceva Walter Tobagi, assassinato, giornalista del Corriere della Sera, assassinato dalle Brigate Rosse nel 1980, ricordiamoci che se ci spacchiamo in fazioni anche nel campo dell'informazione si corre il rischio di dire che è democratico il giornale che dice ciò che piace a me, non è così. Grazie Cappato, grazie Cappato, buon lavoro, viva la libertà, non avevo dubbi, grazie Marco, buon lavoro, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito fin qui, restituisco la linea Milano, domani sintonizzatevi se volete alle 10 come sempre, il nostro ospite sarà il mitico Arrigo Sacchi, buona giornata a tutti e buona settimana. Grazie a tutti.